Andiamo in casa San Luca, l'Avvocato Romeo, dirigente del San Luca e dei Giallorossi. Ben ritrovato, Avvocato. Buonasera. Buonasera. Di rientro a questa lunga trasferta in Casello Scalea con un punto, una gara dove non siete riusciti a sfondare, nonostante poi c'è stato per un certo periodo, una trentiaia di minuti, insomma, una superiorità numerica. Chiaramente è stato anche un periodo intenso per voi, la Coppa Italia, il recupero con il Sambiase, chiaramente anche quel Cassenza che è pesato, non so ora quanto abbia potuto influire sul risultato di questa gara. Non credo relativamente, Antonio. Oggi è stata una partita, a mio avviso, condizionata dal forte vento, gelido, però voglio dire che non è un altro perché il vento non ce ne si è per noi, se per la Scalea. Noi in pratica eravamo partiti dal primo venuto con la spada scherata contro il punto, però non siamo riusciti a fare golle, anzi eravamo riusciti con Bruzzalini che poi è stato annullato da parte di segnalazione del Guardalini perché ad avviso del Guardalini ha Bruzzalini che è segnato con la mano. Secondo me il gol era regolare, dalla posizione che ero io. Ma comunque, voglio dire, noi abbiamo pareggiato, vedo in considerazione che ci sono anche le spade avvertarie. La Scalea era una ottima difesa, anche se l'attacco era un po' leggerino, però voglio dire che erano ben schierati in campo per non subire. La fine ci sono riusciti. Nella partita, da un certo punto noi eravamo in superiorità numerica, perché c'è stata l'espulsione di Martino e ci potevamo approfittare, però non siamo riusciti perché poi abbiamo avuto l'espulsione a un quarto d'ora. Allora, alla fine, nel momento di maggior pressione nostra, di capitano Corbone, perché io non lo so se è giusta o meno, però c'è stata l'espulsione. Sì. Anche noi in dieci, poi a quel punto ci siamo dovuti scontentati, per virgolette, del fare che poi si andava a vedere un risultato che ci può stare. Magari all'avigilio no, perché, mi ripeto, mi sento una squadra a cazione anteriore per poter fare la nostra partita e poter aprire il punto. Cinque punti in tre gare, giocate in trasferta per il San Luca. Ci può stare anche per un periodo pure intenso, c'è stata la Coppa di Mezzo. Anche, voglio dire, ci sono in campo anche forze mentali, oltre che fisiche, avvocato? Infatti è stato un punto forza incredibile, perché noi in pratica ci siamo riposati affatto. Abbiamo giocato, ci siamo allenati nel periodo natalizio per poter affrontare la partita di San Biasi, il recupero, non ci siamo riposati, e niente, ho detto bene, il terzo ha spesso cinque punti, potremmo fare qualcosa in più, però secondo me, con i soldi, ci sono sempre cose che ci sono le squadre avversarie. Ognuno vuole vincere, cominciano a perdere, e parla bella figura con il San Luca. Noi oggi potremmo vincere, non ci siamo riusciti per niente. A per la prossima, Antonio. Beh, beh, è chiaro, il campionato ci può stare, comunque il filotto di risultati utili per il San Luca è imbattuto da quante settimane? Da quante? Da 47 partite. Tra la promozione dell'anno scorso e due anni fa è il segretto di eccellenza. Però dobbiamo tenere in considerazione che la Regia Mede, dopo aver perso con noi, ha fatto i dietro esperti e due vittorie. Sì. Ha recuperato quattro punti, dobbiamo stare attenti, Antonio. Sì. Dobbiamo incominciare già, domenica, cominciare a vincere, perché, vuol dire, con il pareggio non si va da nessuna parte. È chiaro. Vincenzo Tarsia. Buonasera, buonasera Avvocato. Avete avuto spesso la possibilità in questo campionato di dare qualche spallata decisiva, direi, proprio al vostro percorso. Invece, purtroppo, a prescindere dal fatto di queste due settimane che c'è stata la Coppa Italia, capisco mentalmente che siete stati sicuramente carichi sia prima che dopo per questa entusiasmante vittoria che è chiaramente per il San Luca una cosa molto importante. Avete avuto questa possibilità, però non siete mai riusciti a farla, questa cosa, per un motivo e per un altro. Adesso, come dice lei, la regione interranea si è rifatta sotto, ma direi anche le altre squadre dietro. C'è la possibilità di cambiare ritmo adesso? Allora, Vincenzo, hai detto benissimo. Abbiamo avuto la possibilità di allungare, però le altre squadre, tipo la Vincenzo, ho avuto pure la possibilità di accorciare. Ora, come hai detto bene tu, fin da un'età bisogna cominciare a vincere, a fare i perpunti, perché per andare avanti, per poter esprimere, diciamo, la fattura del campionato, bisogna fare i perpunti, perché con i pareggi, con le quali giri, per volgolette, non si va con nessuna parte. Siamo che abbiamo avuto delle trasporti inseriose, ispirati niente, andare a fare i risultati a Stambia, a Scalea, e a Vincenzo, addirittura, abbiamo avuto un po', e noi, tra domenica, con quel tempo, guardiamo la ripresa, non sarà facile, e noi dobbiamo vincere a tutti i posti, per portare a fase, diciamo, per poter continuare, diciamo, a respirare la vittura del campionato. Avvocato, numericamente, ma proprio non parlo di qualità, ma numericamente, visto che il campionato, c'è questo girone di torno che sarà intenso, ecco, pensate di intervenire con ulteriori innesti, visto che c'è anche questa possibilità di, come dire, di prendere il giocatore anche dai professionisti in questo frangente. No, assolutamente no, io credo che siamo al completo, perché abbiamo una rosa abbastanza ampia, oggi addirittura eravamo i 21 convocati, che c'era Romero squalificato, per noi, voglio dire, è stata una spesa pesante, però purtroppo dobbiamo stare attenti riguardo all'espulsione, perché l'espulsione, voglio dire, non solo che spesano per la partita di quel giorno, ma anche per il proseguo, perché noi abbiamo avuto l'espulsione di Romero, ha spaltato la partita di oggi, è stata pure quella di domenica prossima, queste sono quelle piccolezze, quelle cose che possono fare la differenza durante il campionato, l'espulsione, l'infortune, va bene, l'infortune è una cosa che non è preferibile, ma l'espulsione, sicuramente quando si tratta di espulsioni che si possono evitare, è meglio evitabile. Sì, in tal senso, per esempio pure l'essenza di carbone, non so, voi giustamente avevate qualche dubbio in merito sull'espulsione di carbone, però è un altro elemento che insomma fa la differenza innegabile lì in mezzo al campo. Infatti oggi è stato espulso nel momento di maggior pressione da parte nostra, nel momento che potevamo segnare da un momento all'altro, c'è stata l'espulsione, non lo so se è stata un'indietà oppure una svista dell'albero questo non lo so perché poi ancora con carbone l'ho parlato e poi magari facciamo spiegare da lui che ci stavano nell'espulsione e dagli spazi di connessi sì, però voglio dire l'espulsione bisogna evitarla, bisogna avere i saldi, come si vuol dire, se no non si arriva da nessuna parte. Eravamo in superiore età numerica e fareggiare i conti, per virgolette, non va bene perché potevamo vincere e vincendo oggi avremmo, diciamo, dato un segno importante al campionato. Certo. Non l'abbiamo fatto, però per scoprire.